Spero che arrivi presto il voto in aula lunedì e martedì alla Camera e al Senato. Se conti ai numeri torniamo a occuparci di cose serie e noi già annunciamo da oggi il voto a favore del centro-destra al decreto Ristori e allo scostamento di bilancio, perché quelli sono soldi per le famiglie e per le imprese. E poi da mercoledì, se non hanno i numeri, noi saremo in grado di prenderci le nostre responsabilità. Stiamo già ragionando di progetto e squadra alternativi a questa sinistra che rimette al centro lo sviluppo, la crescita e tutto il resto. Posso dirvi che è frustrante, deprimente e imbarazzante avere a che fare con un Presidente del Consiglio e con un Governo che vanno a caccia di voti dalla mattina alla sera. Noi ci occupiamo di altro.